Il trono di spade sembra riguardare guerra, violenza e plateali manifestazioni di potere. Ma la persona che alla fine vincerà il gioco del trono non sarà il migliore a cavalcare draghi o a combattere guerre. Perché, per quanto violento è il trono di spade, la maggior parte del potere che tu vedi sullo schermo non è esercitato con forza fisica. Perciò, anche se Cersei dice cose come questa. In realtà, lei agisce così. La stessa cosa vale per il nostro mondo. Il potere non è sempre esercitato fisicamente. Ovviamente, proviene da questi mini conflitti che avvengono sotto i radar e da qualcosa che chiamo i 4 cardini del potere. E questi mini conflitti sono il motivo per cui giocatori meno fisicamente capaci come Tyrion hanno una grande probabilità di vincere il gioco del trono. Ora, in questo video, andremo ad esplorare questi mini conflitti di potere in una conversazione fra Tyrion e Daenerys. E tu vedrai perché Tyrion è una forza tale da non poter essere ignorato e come puoi usare i suoi principi nella tua vita. Perciò, procediamo. Iniziamo con i 4 cardini del potere. Il primo cardine è controllare quando le cose avvengono. Nota come Dany sceglie esattamente quando il silenzio sarà rotto nella prossima clip. In questa scena, Tyrion e Giorha sono completamente sotto il controllo di Dany, perché Giorha l'ha tradita e Tyrion provene da una famiglia che lei odia. Lei è la regina ed ha tutto il potere in questa situazione. E questa scena mostra come lei lascia sedere il silenzio per un po' per enfatizzare il suo potere. Quando Giorha interrompe il silenzio, lei gli dice di tacere, decidendo di fatto quando l'interazione inizierà. E questo ci mostra l'importanza di sedere comodamente nel silenzio. Questo comunica potere, che è qualcosa che altri personaggi faticano davvero a fare. Forse pure tu. Perciò, dai un'occhiata a Joffrey contro Tywin e nota chi è più agitato quando c'è silenzio. I'll make sure you understand that when I've won your war for you. My father won the real war. He killed Prince Rhaegar. He took the crown while you hid on a costly rock. The king is tired. See him to his chambers. Grand Maester, perhaps some essence of nightshade to help him sleep. La dinamica di potere qui è ovvia. Meno movimento vuole dire più potere. Perché movimento vuole dire che quella persona sta reagendo all'altra persona. Chiaramente, quello che è in controllo, quello che non sta reagendo è Tywin. E questo è il punto del primo cardine. Se controlli quando un incontro inizia, quando finisce, e se puoi sedere comodamente nel silenzio, stai prendendo il controllo dal primo cardine. Parleremo di specifici consigli per la tua vita alla fine, ma per adesso sappi solo che Daenerys vince il primo round per quanto riguarda la gestione del tempo. Tyrion e Jorah sono lì, quando lei vuole che siano lì. E la conversazione inizia quando vuole lei. Ora andiamo al secondo round e al secondo cardine. Chi conta di più? Ho discusso in un altro video di come Tyrion è eccellente nel trovare cosa le altre persone vogliono e nel rendere se stesso importante per ottenerlo. Lui è anche eccezionale nel far sembrare se stesso la persona più importante in qualsiasi interazione. Perciò, guarda adesso come rende se stesso molto, molto importante agendo come se stesse valutando se Dany ha il diritto di lavorare con lui. Io sono il più grande Lannister killer del nostro tempo. Quindi dovrei venire a te nel servizio perché hai ucciso i membri della tua famiglia. Nel servizio? La tua grazia, ci siamo solo conosciuti. È troppo pronto di sapere se ti deservei il mio servizio. Questo tipo di valutazioni avviene sempre nella vita reale. Tipicamente, un intervistatore chiederà perché un candidato merita il posto. Ma un buon candidato di lavoro capovolgerà la situazione ad un certo punto, dicendo Aspetti un secondo, perché dovrei venire a lavorare in questa compagnia? Un cliente tipicamente chiederà perché dovrei comprare il vostro prodotto? Ma un buon venditore dirà perché noi dovremmo lavorare con lei? È così che le persone, che potrebbero essere in una situazione di svantaggio, elevano il loro status e comunicano che loro sono la migliore opzione. Ora, spesso la domanda chi è più importante verrà risposta non verbalmente. Perciò, guarda questo esempio di Tywin e Joffrey per vedere come lo spazio fisico fa sentire ogni persona più o meno importante. Chiaramente questa scena è ripresa in un modo che fa apparire Tywin inferiore. Joffrey è stravaccato sul trono, in alto, mentre Tywin è in piedi, sotto di lui. E, infatti, è così che moltissimi colloqui di lavoro sono organizzati. Loro hanno una sedia comoda, tu siedi in una di merda. I locali pure sono organizzati così, con i tavoli in alle riservate, le corde di velluto e roba simile. In queste situazioni sei in svantaggio finché tu stai nella posizione inferiore, da cui può essere davvero difficile uscire. Osserva però in questa clip come Tywin riconosce la sua inferiorità sociale nella situazione e cambia completamente la dinamica di potere, rifiutando di stare in quella posizione letteralmente inferiore. E poi vedere quanto velocemente quell'arroganza si trasforma in movimenti nervosi, grazie all'eccellente recitazione di Jack Gleason. Ma il punto è che, idealmente, questo è ciò che dovremmo fare quando ci troviamo in situazioni analoghe. Senza fare una grossa questione, puoi rompere rituali sociali che rinforzano dinamiche di potere impari. Ho citato prima i colloqui solo per darti un esempio. Una delle cose che so aver funzionato davvero bene quando facevo colloqui di consulenza era usare la parte scritta del colloquio come una scusa per cambiare il mio posto a sedere. Perciò, puoi slittare di fianco all'intervistatore per mostrare il tuo lavoro, tipo come un insegnante farebbe con uno studente. E quel semplice cambio, muovendoti dall'atto opposto del tavolo ad una posizione vicina alla loro, ti fa sembrare che non sei lì per dimostrare qualcosa, ma che state lavorando assieme. Ed anche loro lo percepirebbero. La radice per creare questo tipo di importanza e status per te stesso, però, non è semplicemente dire perché dovrei lavorare con te, e poi cambiare posizioni fisiche. Per elevare davvero il tuo status hai bisogno dentro di te di una credenza radicata e profonda. Perché, come dice Varys... Perciò, per avere potere, hai bisogno di credere di avere potere, che hai il problema di Joffrey con Tywin. Ora, non c'è bisogno di essere come Joffrey. Questo non riguarda il sentirsi moralmente superiori. Non riguarda il credere che tu conti più di altre persone. Significa semplicemente che tu credi di non avere bisogno di nessuna specifica persona. Che hai opzioni. Che potresti voler creare una relazione con un intervistatore al lavoro, o un cliente, o un capo, o durante un appuntamento, o altro. Ma che poi, sarai a tuo agio se la relazione funziona o meno. Ora, questo è difficile da fare quando la tua vita è in gioco, come succede con Tyrion in molti dei suoi incontri. Ma considerando le situazioni che ho già citato, colloqui di lavoro, appuntamenti, vendite, la tua migliore mossa è rivedere mentalmente le ragioni per cui non hai davvero bisogno dell'altra persona. Rivedere mentalmente tutte le opzioni che hai davvero. Poi, puoi procedere da una posizione di sarebbe interessante ottenere il lavoro, lavorare assieme, avere un secondo appuntamento, ma non apparirai come privo di potere e bisognoso. Comunque, torniamo alla posizione di Tyrion, ed esploriamo il terzo cardine, il cosa su cui ci si focalizza. Osserva ora come Dany rivolge a Tyrion una domanda, e, anziché ribattere con una risposta diretta, rispondendo secondo i termini di Dany, lui inizia a raccontare una storia. Vedi come Tyrion non risponde direttamente al suo commento, ma invece racconta una storia prolungata? Lui sta controllando il focus. Dany sta ascoltando con attenzione, perché è interessata. La storia ha un pizzico di mistero. Dove vuole andare a parare? Qual è il punto? E lei comprende molto velocemente che sta parlando di lei, perciò diventa immediatamente rilevante per lei. E, ora, Tyrion ha la sua totale attenzione, esattamente nel modo in cui Giora la voleva all'inizio. Tu, nella tua vita, puoi determinare su cosa le persone si focalizzano in modi diversi. Puoi raccontare una storia affascinante, specialmente con un po' di mistero, o insegnare loro qualcosa che non sapevano. Il punto è attrarre l'attenzione in qualunque modo possibile, metterli sul loro della sedia, perché una volta che hai l'attenzione, puoi ridirezionarla dove vuoi. Nel caso di questa clip, Dany finisce giusto dove tira un vuole che lei finisca. Lei gli chiede perché lo dovrebbe tenere a palazzo. Ora, guarda cosa succede. E poi, un po' anni fa, la persona più informata che mi conosce, mi ha detto che questa ragione senza famiglia, landi o armati, aveva comunque acquistato tutti i tre, in una corte spazio di tempo, con tre dragone. L'ho pensato che era la nostra migliore, la ultima chance di creare un mondo migliore. Pensavo che ero worth meeting, almeno. E perché sei worth meeting? Potrebbe ancora sembrare che lo sta attaccando, ma ora, stanno parlando in un'area su cui tira una padronanza. Come lui, può aiutarla a diventicare Westeros. Lui è un esperto perché ha vissuto lì e lei no. Lui ha cambiato il focus della conversazione da forse dovrei ucciderti, a come puoi aiutarmi, con una semplice storia. Perciò round 3, a chi va, fa a lui. E da qui, anche il resto della conversazione va a lui, mentre eleva il suo status sociale, valutando Dany. E poi salendo su per le scale per cambiare la dinamica da una di interrogatorio a una di consiglio. E puoi vedere a questo punto che Tyrion ha ottenuto ciò che voleva. Le sta dando consigli e lei sta ascoltando. Ora, quarto e ultimo Cardney, il dove. Chiaramente, Dany ha questa in cassaforte sin dall'inizio. Ha iniziato nel suo regno con le sue guardie a circondarla, appolaiata sulla cima del suo trono. Ma solo per illustrare quanto potente può essere la location, contrasta i suoi giochi di potere quando non è in una location così dominante. Non c'è bisogno nemmeno di dirlo. Ti conviene incontrare le persone nel tuo territorio. Se non lo sono, portacele. Abbi il primo appuntamento in un posto dove conosci le persone che ci lavorano. Tieni la riunione nel tuo ufficio. In breve, quando è possibile, fai le cose in un posto dove tu hai status. Ora, Tyrion non pensa a ciò in questo modo, ma forse ha una padronanza molto, molto salda di questi quattro Cardney. E anche quando è fisicamente sovrastato, ha spesso l'abilità di riprendersi il potere, vincendo questi mini conflitti relativi ai quattro Cardney. Quando non può controllare quando il conflitto avviene, lui sposta il focus della persona. Se non può controllare dove avviene il conflitto, lui cambia improvvisamente il chi è più importante. Nella tua vita, puoi iniziare a notare questi quattro Cardney e come loro influiscono su ciò che vuoi. Il consiglio più semplice da mettere in pratica che ti posso dare, però, è di avere la giusta mentalità. E questo, lo puoi fare focalizzandoti su ciò che porti sul tavolo, che è unico in ogni interazione. Lo fai focalizzandoti sulle opzioni che hai sempre, che sia un colloquio di lavoro, una vendita o un primo appuntamento. Non entrare mai in queste situazioni sentendo che hai bisogno di qualcosa. Questo è il modo più veloce per comunicare che ti si possono mettere i piedi in testa e ti saranno messi. Rifocalizzati sulle tue opzioni. Sii pronto a voltare le spalle se le cose non funzionano e le cose andranno meglio di volta in volta. E per assicurarci che tu non faccia lo stesso errore che io feci anni fa, non tutto nella vita dovrebbe essere visto come un gioco di potere, dove c'è un vincitore e un perdente. È una prospettiva utile per vedere come puoi essere più assertivo ma non diventare un ossessionato. Devi bilanciare un occhio per il potere con la realizzazione che a volte il miglior modo per vincere è semplicemente ignorare le dinamiche di potere. Completamente. Mi scuso se suono un po' zen ma se vuoi che parli di questo in un altro video fammelo sapere. Ma nel frattempo se vuoi qualcosa di più concreto ho un video che analizza le quattro emozioni da suscitare negli altri per garantirti una grandiosa prima impressione in ogni singola circostanza. Guardati subito la video guida sulle quattro emozioni clicca sull'immagine che sto indicando. Evita agli amici il rischio di ignorare quattro cardine al potere e di farsi mettere i piedi in testa da chi li vuole sfruttare. Condividi ora questo video con loro. Ci vediamo nel prossimo video.